Salve amici del verde, oggi andiamo a vedere come si prelevano i semi dalla melanzana in modo che se non abbiamo piante ibride possiamo proprio riandarcela a piantare in primavera inoltrata e riavere quei bei frutti che tanto desideriamo, andiamo subito a vedere come si fa. Anche questo video è in collaborazione con la Promon, un'azienda che sviluppa e sponsorizza nuovi progetti, rivisitiamo questo canale per darvi il meglio. Riprodurre la pianta della melanzana quando non è un ibrido dalle nostre belle melanzane è molto facile, perché dico che è molto facile, perché la pianta della melanzana è una pianta che si auto impollina, quindi non ci occorre nessun insetto impollinatore per far impollinare il fiore, anzi se la vostra pianta non è un ibrido c'è pericolo che se ci sono piante più vicine di 400 metri gli insetti impollinatori girando potrebbero andare a impollinare il fiore quindi a fare un ibrido della vostra pianta. Per evitare questo si fa con questi sacchettini di tulle, io ne ho ad esempio uno qua, si va proprio ad insacchettare il nostro fiore ed una volta che abbiamo insacchettato il fiore stretto i laccetti la melanzana si formerà all'interno del sacchetto, quando è giunta a questa grandezza di una susina sciogliamo il sacchetto, la liberiamo altrimenti poi dentro non c'entra più e attenderemo il tempo di maturazione, la melanzana andrà raccolta proprio quando è completamente matura, ce ne accorgeremo perché oltre a cambiare colore perché inizia da quel bel lucido ad opacizzare la buccia intorno inizierà proprio a cambiare colore, diventerà un giallo cuoio, attendiamo proprio che arriva quel colore che va verso il giallo, a quel punto è matura andremo a prelevare la nostra melanzana ed estrarre i semi. Di tutte le nostre melanzane cerchiamo sempre di scegliere la pianta più bella, più fresca, più vigorosa, quella che non è malata e cerchiamo sempre di prendere i fiori quelli che stanno verso il basso, quindi i primi che nasceranno dalla pianta della melanzana saranno quelli che daranno melanzane più grandi, conterranno dei semi più grandi e saranno quelli che germineranno sicuramente. La melanzana deve essere raccolta quando è in completa maturazione, quindi non la dobbiamo prendere come se noi raccogliessimo una melanzana per andarla a mangiare, ma invece deve essere completamente matura, deve iniziare a diventare di questo giallo cuoio, quindi prima diventa opaca poi inizierà questa colorazione giallo cuoio, a questo punto possiamo andarla a prendere perché all'interno avrà tutti quanti quei bei semi maturi e pronti da prelevare. La stessa cosa vale per queste striate, questa che in mano è pronta da mangiare, questa iniziata a diventare opaca, inizia proprio la colorazione gialla pronta per essere raccolta per farne dei semi. Prendiamoci la nostra melanzana, eccola qua, andiamo a lavorarla. Per prelevare i semi utilizzo queste grattugio qua, in modo semplice vado a togliere la porzione in basso della mia melanzana ed elimino una parte esterna della buccia e tolgo solamente diciamo un mezzo centimetro fino ad arrivare praticamente alla parte semi, in questo semplice modo qua. Una volta che ho fatto questo lavoro mi gratto la mia melanzana, quindi avrò una poltiglia, una pappetta grattugiata di semi e polpa. Vedete quanto è semplice? In questo modo io non rovino assolutamente i semi, c'è chi usa frullare con il frullatore però che succede? Che con il frullatore poi i semini possono essere intaccati dalle lame, invece in questo modo qua vengono già tutti quanti quasi liberati. Mi grattugio adesso la mia melanzana. Una volta che ho grattugiato la mia melanzana prendo un bel contenitore con acqua e ci vado a mettere tutta quanta la mia polpa. Adesso non faccio altro che con le mani cercare di sfibrare un po' questa polpa, mescolando così. Vedrete che pian piano si separeranno i semi dalla polpa e i semini ben presto vanno tutti quanti sul fondo. Continuate un po' in questo modo qui e potete anche lasciare una mezz'ora a riposo così. Tolto il grosso con le mani possiamo anche aiutarci con una con uno scolapasta e andiamo giù abbastanza velocemente in modo che si libera tutta quanta la polpa, non vi preoccupate i semini sono pesanti, eccoli qua vedete sono pesanti e rimarranno tutti quante in fondo, adesso è molto più semplice andarli chiaramente a liberare. Riempiamo di nuovo il nostro contenitore con acqua e quella pochina di polpa che è rimasta cercheremo di levarla in questo modo qua, io utilizzo un passino molto fit e mi tolgo tutta quanta la polpa, i semi sono sempre sul fondo. Con un po' di pazienza abbiamo liberato tutti quanti i semi dalla polpa, non vi preoccupate poi se ce n'è ancora un pochina, quando si asciugherà al sole il semino la polpa si libera, a questo punto svuotiamo completamente i nostri semini in questo modo qua e abbiamo i soli semi. Svuoto tutti quanti i miei semini, io uso un contenitore, uso queste piccole teglie qua, vado ad esporre una mezz'ora al sole. Quando i vostri semi sono ben sciolti li andiamo a mettere in questi veletti di tulle, a me piacciono molto, perché? Perché sono semplici, basta chiudere, qui l'aria passa, il vento passa, si seccano bene, non vola nulla, basta appenderli e passati quattro cinque giorni saranno proprio secchi, dovranno proprio spezzarsi sotto i denti. dopo che si sono seccati così, apriamo il veletto e mettiamo questi semi all'interno di un barattolino di vetro, quelli con il tapper medico, li mettiamo in dispensa in un luogo buio e si manterranno tranquillamente per due anni. Concludo qui questo video ragazzi, vi saluto, in fondo al video trovate il link per andare a vedere come si prelevano gli altri semi dagli altri ortaggi. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!